Ancora una rissa tra i migrati in un locale notturno di Scoglietti. Era accaduto altre volte, anche nei mesi invernali, nella discoteca situata lungo la strada che conduce in direzione di Gela. L'ultima lite si era verificata il 10 luglio scorso, anche stavolta per futili motivi. Uno sguardo in più, forse diretto ad una ragazza, forse un gesto di sfida non gradito. Ma tanto è bastato perché gli animi si surriscaldassero, quattro uomini sono venuti alle mani già all'interno del locale poi hanno continuato a menarsi anche appena fuori. A darsela di santa ragione sono stati un gruppo di albanesi e di rumeni. Tra questi ultimi c'era anche una donna che è stata medicata in ospedale. E' partita da qui l'indagine della polizia che nell'arco di alcune settimane è riuscita ad individuare alcuni dei partecipanti alla rissa. Le dichiarazioni di alcuni presenti, le foto segnaletiche di riconoscimenti hanno permesso di denunciare a piede libero due albanesi e due rumeni, tutti tra 25 e 30 anni. Tre si trovavano a Vittorio e Ragusa, mentre il quarto, un rumeno, è stato rintracciato in provincia di Alessandria. Nella cittadina piemontese, nel frattempo, aveva trovato modo di farsi notare. I carabinieri lo avevano fermato con in mano degli arnesi da scasso e lo avevano denunciato. Ora i quattro emigrati dovranno rispondere di rissa e lesioni personali. La polizia ha anche segnalato il locale da cui è partita la rissa, non nuovo a situazioni di questo tipo e potrebbero scattare delle multe o dei provvedimenti di chiusura temporanea.